bella ragazzuoli ciao bella gente salve brutte persone qui è il vostro tommy0mail per una nuova puntata su minecraft questa volta ce l'ho fatta allora innanzitutto andiamo a salvare subito immediatamente quella gallina e non poteva che mancare l'abbiamo salvata e l'abbiamo portata in acque sicure gallina per fore non disturbi allora cosa volevo fare oggi oggi volevo iniziare non dico tanto ma almeno iniziare a creare la base per la farm insomma per dove poter mettere gli animali da far riprodurre così da poterli uccidere perché noi non siamo molto vegani su minecraft in realtà non siamo neanche nella vita reale vegani ve lo dico ragazzi io non sono vegano a me i vegani mi fanno tenerezza poverini mi perdete tante cose tipo gli arrosticini guardate che tanta roba gli arrosticini va bene e iniziamo a fare i nostri recinti per gli animali aiuta anche tu un vegano allora buttiamo giù un altro po di qua perché tanto ormai ci siamo tanto vale sicuramente abbiamo a disposizione sia le mucche che le galline la salvo ogni tre per due quindi e pecore qualche parte c'erano sicuramente quindi anche le pecore potrebbero essere potrebbero essere potrebbe essere un buon inizio di farma ok allora prima di tutto facciamoci una bella pala perché la pala parte pala serve sempre poi facciamoci subito un altro piccone accanto quello che abbiamo si romperà e quindi così vi ricordo e posiamoci il vetro posiamoci l'uovo non ci serve possiamo il vetro non riesco a premere shift ok un po di legno ce l'abbiamo anche se non è tantissimo legno da bete vogliamo farle scure why not why not allora prima craftiamo papà 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 le staccionate le staccionate in questa versione non mi ricordo com'erano oh mio dio da questa la barca ok queste sono le staccionate da bete e le craftiamo un po tanto serviranno sempre poi ci facciamo non però con questo perché è inutile spiegare la bete ci facciamo un po di bastoncini e ci facciamo questo che cos'era questo crafting il cancello ne facciamo uno solo perché al momento ne serve un esoglio ok e andiamo a predisporre allora io quando esco voglio che inizi tipo da qua se così ce l'ho qui nelle vicinanze allora ora vi dico una cosa se voi mettete uno di pietra da 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 1 2 3 4 e mettete allora vi spiego un attimo al volo al volo le staccionate per mettere dentro gli animali sono queste ok voi ta 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 e ta ok davanti ci mettete un cancelletto che è quello che ho predisposto qua ve la storcio ve la faccio in miniatura così lo capite eh poi dopo vi spiego tutto ta 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 ok cancelletto si apre ok che succede gli animali per qualche bug strano ogni tanto escono ogni tanto entrano è un casino disumano allora molte volte si tende si tende a farla di due piani ok e va benissimo teoria più che giusta molto carina e perfetto così io ci sono andato avanti millenni con questa storia e va bene ora sono passato al piano b che è la stessa cosa di farla a due piani ma con il primo piano fatto in materiale cubico in questo caso ho la pietra e adopro la pietra per il semplice fatto che ogni volta che devo entrare io e poi sopra ci metto altra staccionata ok ta 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 ogni volta che devo entrare e vado di corsa per qualche x motivo io non entro cioè non apro ma semplicemente salto sul cubo capito perché non posso saltare il cancelletto ma posso saltare il cubo quindi salto sul cubo ed entro velocemente tutto qui quindi quello che vedete che ho fatto è questo qua niente di più niente di meno 1 2 3 4 5 6 7 6 più o meno 8 casa quando finisce ma buttiamo giù quel muro questo muro ma si ma dai ma si ma si ma si ma dai e quindi così ma è una solo una cosa di comodità eh c'è più che altro per a volte ti serve del cibo entra esci chiudi apri escono gli animali mentre chiudi invece così non esce nessuno sono tutti là dentro non mi sembra che ci sono bug per il quale gli animali tendano ad uscire si è fatta un po' notte forse dovrei andare a dormire la cosa migliore sarebbe andare a fare due ninne buonanotte andiamo 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 a lavorare qui spianiamo per bene tanto abbiamo quasi fatto avete visto un'ombra dietro casa? un ender non mi interessa adesso grazie ripassi più tardi ragazzi ho smaltito ho smaltito ho smaltito non lo guardate non lo guardate non lo guardate siamo ancora troppo deboli vi ricordo che eh morto 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 qui no Andy Andy non ti sto guardando Andy non ti sto guardando sei tu che guardi me no Andy ok Andy Andy ahà allora quindi vedi 1 2 3 4 e si ruba i ghi vabbè 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 così ma se 8 vabbè fatto da 9 ma alla fine potrebbe starci anche farla da 9 why not ok adesso mettiamo tutto intorno staccionata cioè nel frattempo questi Andy che si diverte a starmi intorno non c'è problema Andy vai tranquillo fratello ci servono altre staccionate e passiamo usciamo tranquillamente senza problemi allora facciamo le belle staccionate Andy mi vuoi dire qualcosa cavo non c'è problema fai come se fosse a casa tua guarda l'importante è che chiudi quando esci e voilà mettiamo delle belle torce qua 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 non mi chiedete davvero non mi chiedete non mi chiedete no qua la metà dovrebbe essere questo se what e quindi allora adesso possiamo andare a prendere beh ragazzi ci siamo specializzati io direi che il minimo doveroso è questo allora come funziona per andare a prendere gli animali voi innanzitutto prendiamoci questo grano ecco vedete voi prendete il grano le galline vi seguiranno guardate eh qui è lei che segue me no che io ciappo la gallina ciappo la gallina ciappo la gallina ciappo la gallina cocco ce l'abbiamo fatta prego grazie lei è molto gentile vedete allora questa è una maniera di far domesticare le galline l'altra è prendere a mano a mano le uova se avete fatto caso io ogni volta passavo lì e prendevo le uova e una volta che abbiamo le uova prendere e lanciarle al suolo ecco e nasce il pulcino il pulcino poi cresce e diventerà a sua volta una gallina allora vediamo qua ce n'è un'altra di gallina no questo è un fiore ho flesciato ho flesciato ma all'altra parte c'è un'altra gallina 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 qua abbiamo una intanto mangiamo un pezzetto di carne qua abbiamo una mucca là c'è una gallina qua c'è un'altra gallina ok qua ne proviamo a prendere due insieme pronto no questo momento ho sbagliato io acqua pure aperto mamma mia questa è una grotta super immensa gigante ok andiamo a prendere quell'altra c'è un po' gallina si adesso ce la fa è un attimo incastrata però ce la farà e noi ce le portiamo piano piano a casa perché comunque devi aspettare che ti seguano non è proprio facilissimo cioè più che non è facile è lento però vabbè sopravviviamo piano piano ogni tanto o se no lo fai direttamente a retromarcia però piano piano lo puoi fare perché devi vedere che ti seguono le galline ci siamo dai ragazze dai ragazze ragazzi ragazzi uno e due perfetto ora facciamo una cosa le facciamo riprodurre così allora diamo del grano a due a una coppia una e due tanti cuoricini e nasce il piccolo e il piccolo crescerà ok ora noi le sanno qua tranquille pace pace e proseguiamo per la nostra prossima arma che la vorrei fare proprio davanti che è quella di mucche perché praticamente questo crepaccio cioccio praticamente noi avendo il grano piantiamo piantiamo i semi ci esce fuori il grano e col grano facciamo il fieno il fieno no si chiama direttamente grano che è la stessa cosa per è quello che mangiano le mucche praticamente quello che abbiamo fatto adesso con i semi lo facciamo con il grano e ci portiamo addomestichiamo le mucche ok semplice easy peasy lemon easy qua vorrei un po' pianeggiare ho finito l'al ah no non ho finito la terra ecco ragazzuoli ragazzuoli sono molto stanca anche oggi il lavoro uccide il lavoro non lo bini lo amo il lavoro uccide lo amo io sono convinto di ciò quanto rispetto a casa è uscita 1 2 3 ok è uscito di 3 da casa 1 2 3 mamma mia come stiamo mettendo questa terra e quindi la stessa cosa non abbiamo pietra non abbiamo pietra com'è possibile non avere pietra in questo mondo mondo malefico allora non volevo spoilerare però tanto noi prima o poi ci costruiremo la nostra miniera personalizzata quindi tanto vale iniziare gli scavi ad hoc ad hoc per tale operazione quindi si così e andranno giù senza che troviamo altri materiali perdiamo un po' di tempo adesso tanto o prima o dopo andava fatto perché adesso non vi voglio spoilerare cosa succederà cosa faremo in quest'area però sappiate che potrebbe venire una cosa molto carina e io però ho bisogno di sapere casa quanto è lunga non vi dico troppe cose va bene però va bene ve lo dico da qui faremo un secondo con il tempo un piano sotterraneo dove ci metteremo un po' di cose e poi partirà la nostra miniera questa sarà la scaletta che porterà la nostra miniera dove faremo la miniera per i diamanti principalmente poi insomma quello che troveremo però vi farò vedere una maniera per fare la miniera di diamanti che è quella più redditizia utilizzata da tutti non vi faccio vedere niente di che niente di nuovo però è quella che anche io devo utilizzare per i diamanti ragazzi la puntata finisce qui perché se no si fa troppo tardi abbiamo fatto la nostra il nostro gallinaio gallinaio gallinaro non lo so pollaio perché loro sono polli quindi abbiamo fatto il nostro pollaio la puntata finisce qui spero vi sia piaciuta spolliciate se ancora non vi siete iscrivetevi bella a tutti ciao